Sì, gente. Guarda, guarda, guarda che no. Guarda, guarda. Guarda, guarda. Guarda, guarda. Guarda, guarda, guarda. Sì, parada. La parola, guarda. Viva. Viva. È veloce. Ma guarda, è brava. Guarda. Vieni! Vieni! La testa dura. Sergio diceva di mantenere la mano davanti agli occhi. Lascialo fare, come vuole fare. Sì, sempre davanti agli occhi, non abbandonare la mano e girare attorno. La mano davanti agli occhi ha copertura. alla fine mi ha detto di complimentarlo mi ha detto Nelta, questo è un cane obbediente ho fatto un'elezione è un esercizio che fa benissimo è un esercizio 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 è un esercizio 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 esercizio